bimbe buongiorno ehi vane che giorno è oggi che arriva oggi amore che arriva oggi anastasia che arriva oggi la zia e arriva isabella con aria amore che arriva oggi che dove andiamo più tardi dove la zia samanta amore hai ragione dai sveglia vane vane sveglia amore oggi arriva la zia samanta dobbiamo andare a prenderli in aeroporto dai ci alziamo amore buongiorno ciao amore sei sveglia sei felice che arriva oggi amore isabella e aria e il nostro cugino e quanto sei contenta tantissimo e andiamo a prenderli in aeroporto quindi oggi tu uscirai prima da scuola quindi per pranzo e dopo pranzo partiamo per malpensa andiamo a prenderle va bene ma allora non se l'aspetta loro non sanno niente devo avvisare anche i nonni di non dire niente ciao amore ciao anche tu esci dopo pranzo tu pranzerai invece a scuola mentre vanessa no e stavo dicendo vanessa che isabella e aria non sanno niente del nostro arrivo in malpensa sarà per loro una super sorpresa domani la scuola finisce quindi aria e isabella potranno dormire da noi e faremo tantissimi video ma non svegliamo niente e vi farò le creppe alla nutella va bene perché no quindi dicevamo che loro non sanno niente che noi saremo in aeroporto quando arriviamo in aeroporto quando stanno per uscire noi ci dovremmo nascondere ok e vediamo ci nascondiamo e poi le faremo una sorpresa ok bimbe io lo so dubbi allora quando arriviamo a cattare i nonni si andiamo su andiamo su io vado in cameretta no in aeroporto ci dobbiamo nascondere perché noi andiamo in aeroporto poi vedremo vedremo ci lasciano niente va bene bimbe dai che adesso lo so loro si stanno davanti e noi dietro esatto probabilmente così adesso andiamo a vedere se daniel è uscito dal bagno così andiamo a lavarci e a scuola va bene a few moments later ragazzi adesso abbiamo portato daniel che è mio fratello a scuola adesso vado io e poi andiamo a stagia ciao ciao ragazzi le bimbe sono andate a scuola oggi giornata super fantastica sono contentissime eccitate per l'ora di pranzo le andrò a prendere mangeremo e si parte verso malpensa per andare a prendere le cuginette ci vediamo dopo ciao ciao ragazzi sono uscita da scuola infatti sto morendo di caldo perché ho anche fatto palestra ma adesso mangio mangio perché è ora di pranzo perché è ora di pranzo e sono felicissima ciao a dopo è finito di mangiare te ne manca ancora un po lo sai che siamo in ritardo sta per uscire l'anastasia hai cinque minuti per finire non voglio allora ti la dimenti è che poi si parte sei contenta ma lo sai che tra un paio d'ore vedi le tue cuginette che felicità vero chissà la sorpresa si riuscirà ben arrivata sei contenta sì e dove stiamo andando adesso andiamo a prendere daniel e lo portiamo a casa stavo pensando che possiamo chiamare la zia samantha sì vediamo così vediamo dove sono sedute se non li troviamo vediamo così no ok ma loro sono sull'aereo non sono seduti in aeroporto che c'è l'aereo secondo me l'aereo sta partendo adesso forse ancora un quarto d'ora e parte sì ma ci vogliono due ore prima che atterri abbiamo tutto il tempo di questo mondo come l'hai passata la mattinata hai pensato a questa cosa stamattina anche Vanessa l'ha detto le sue maestre si parte si sta pulendo la macchina state pulendo la macchina con le salviette wow in attenzione a non cadere fai attenzione a non cadere rientra dentro che qui passano le macchine capito ciao bambine ciao adesso andiamo a prendere isabella e aria alla macchina ok ciao 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 col dito col dito tutto rotto siamo siamo arrivati siamo arrivati l'aeroporto e adesso tra circa un quarto d'ora la zia dovrebbe atterrare ok amore dove siamo in aeroporto andiamo a fare i bisognini andiamo a cercare il quadro con su indicato che ora arriva il volo ok ok abbiamo trovato il nostro volo doveva arrivare alle 16.45 alle 15.45 arriva alle 16.08 ma ne dobbiamo aspettare una mezz'oretta facciamo merenda dobbiamo qualcosa di caldo qualcosa di fresco fresco merendina manca poco allora dove ci nascondiamo sai cosa possiamo fare cosa no mentre i nonni li aspettano all'uscita noi ci spostiamo veniamo più avanti e ci sediamo sulle seggio linee loro ci passeranno davanti ok e non ci vedranno magari ci vedranno ma comunque sarà una sorpresa le vediamo noi meglio ancora se non ci vedono sarebbe meglio non farsi vedere così che quando ci passano davanti noi da dietro le riprendiamo e poi a un certo punto chiamiamo Isabella ok speriamo che non ci vedano va bene dobbiamo fare in modo che non ci vedano e se loro ci passano davanti noi ci alziamo li seguiamo mentre li seguiamo li riprendiamo e poi a un certo punto voi li chiamate come? io dico Andrea eh esatto va bene il piano vi piace mi stai già ridendo stai già ridendo sei contenta ragazzi siete agitate Vanessa tu continui a spiare perché appena le vedi dobbiamo super nasconderci ma non è che perché metti il giubbotto intorno alla vita adesso spio adesso guardo pensa che qui c'è una porta invisibile e entrano di qua pensa un po' magari se ci fosse una porta invisibile e ci entrerei io subito Ani devi abbassarti perché siamo nascoste perché altrimenti no vabbè un pochino più su perché altrimenti i ragazzi ci vedono davanti a me c'è l'uscita davvero davanti a noi c'è l'uscita e secondo me se stiamo in piedi appena escono ci d'essere non sei io lì c'è il nonno quello col giubbottino azzurro che li sta aspettando e ci sono già alcune persone che stanno uscendo come va ragazze niente? ancora niente? ma se sono lì c'è ancora della gente ok però mi vedono se escono allora si eccono così loro sono lì eccolo così ah si è aperta la porta ragazzi sono usciti adesso siamo nascoste e dobbiamo fare una sorpresa speriamo che ci riesce via 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 di qua ci hanno guardato ma non ci ha riconosciuti ecco lei gli dicevo ma dove sono? sono nascoste ma dove si sono nascoste? amore 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 cuginho 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 sta cuginetta adesso andiamo a casa della nonna ciao e anche la sua sorella sì è vero però lei la tua base ciao ciao Isa come stai? bene sei stanca? no 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 ok adesso tra poco andiamo a mangiare la pizza a Lord Byron sei contenta che è arrivata? finalmente adesso ci siamo cambiate un attimo anche Isabella ha fatto la doccia che ha viaggiato andiamo a mangiare va bene? state facendo un aperitivo? si bene vediamo un po' anche noi ci siamo brave vuoi bere qualcosa? can I make you a drink Aria? si? what? what do you do? or I'm just doing coke coke coke? a little bit amore ok Anastasia Anastasia vuoi un po' di vuoi bere un cocktail anche tu? un aperitivo? Aria beve un po' di coca cola tu niente? io volevo derrumbare eh? niente? ok per aria faccio la coke coke per aria ok un poco sembri lo zio William tu hai visto i video dello zio William? si? si poi ne facciamo uno con lui eh? si ammetto acqua soda soda vuota acqua acqua soda ok ok assaggiare cannuccia assaggiare finire si it's good? si è un po' poca perché hai aggiunto acqua io lo faccio no no ok aspetta aspetta ok 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 aria your drink is ready andiamo andiamo sul tavolo ok ok va bene va bene andiamo sul tavolo ok sei contenta che sono arrivate le cuginette si eh? tu hai sempre gli occhi truccati buon appetito buon appetito buon appetito amore e arietta buon appetito siamo tornati a casa eh? adesso andiamo a fare la nana Isabella sarà molto stanca anche tu amore sei stanca? ok ci vediamo domani mattina con la morning routine buonanotte ciao e a domani andate a dormire presto eh? ok? se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bello anche a questo video ciao 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 ciao